Lunedì 18 aprile, presso il Teatro Garibaldi, la CGL Macroarea Lucera Subappennino ha organizzato un convegno dal titolo Area Vasta Monti Dauni, una prospettiva di sviluppo e occupazione. Quello dell'Area Vasta Monti Dauni è un tema particolarmente discusso e che comprende in sé gli interessi di ben 30 comuni del Subappennino, che attraverso questo strumento si uniscono per intercettare le risorse stanziate dall'Unione Europea mediante i POR regionali per incentivare l'iniziativa imprenditoriale pubblica e privata previa presentazione di progetti di interesse sovracomunale. Ma questo progetto vincente sulla carta sta rivelando man mano i suoi limiti e pare essere un'esperienza destinata al fallimento. Primo fra tutti il sindaco di Pietramonte Corvino, Saverio Lamarucciola, che tra i suoi più fervidi sostenitori ha ammesso a malincuore, come quella dell'Area Vasta Monti Dauni, ma in più larga prospettiva tutte le aree vaste, siano da considerare ormai come morte. Le cause possono essere diverse e ne aveva accennato nel suo discorso preliminare anche il giovane esponente della CGL Lucerina, Ivano Di Matto. I fondi, a suo parere, sarebbero stati spesi poco e male, rivelando delle difficoltà nel programmare e progettare iniziative per lo sviluppo regionale. Una cosa però è apparsa chiara dalle parole del sindaco di Bovino, Michele Dedda, e del sindaco di Lucera, Pasquale Dottoli. E cioè che per far sentire la voce del nostro territorio a livello regionale e comunitario bisognerà agire uniti oltre ogni forma di campanilismo. L'intervento di Mario Barberio, Dipartimento Economico CGL Puglia, è stato prezioso nel fornire dettagli tecnici inerenti all'Area Vasta dei Monti Dauni, spiegando ad esempio i criteri di ripartizione dei fondi secondo criteri demografici, di estensione territoriale e aspetto morfologico territoriale. Il consigliere di minoranza Antonio Tutolo si è soffermato sul ruolo che Lucera dovrebbe rivestire all'interno dell'Area Vasta Monti Dauni, quello di ente capofila. Questo non per ragioni di campanilismo, ma semplicemente perché in un concetto più allargato di area metropolitana, sebbene non sia propriamente una metropoli, Lucera potrebbe svolgere per importanza un ruolo cardine all'interno dell'Area Vasta. Nel suo intervento conclusivo, Franco Persiano, segretario provinciale della CGL di Capitanata, ha invitato tutti i comuni dei Monti Dauni ad attivarsi, per dar vita ad un'azione sinergica con l'amministrazione provinciale, affinché le due aree vaste rientranti nel territorio di Capitanata possano far sentire la propria voce a livello regionale, al di là di interessi singoli e appartenenze politiche. In un periodo di forte crisi economica, infatti, non ci si può permettere di rinunciare a forme di finanziamento come questo, a causa di quelli che possono essere definiti come futili motivi, come ad esempio le diatribe inerenti alla scelta dell'ente capofila. Ha inoltre rinnovato l'invito a convocare al più presto il partenariato socio-economico dell'Area Vasta Monti Dauni, in modo tale che le amministrazioni locali possano discutere di concerto con i sindacati della programmazione. L'Area Vasta rappresenta da alcuni anni più di un semplice strumento per intercettare fondi europei. È stato un progetto che ha messo in evidenza la capacità collaborativa dei comuni dei Monti Dauni ed un modo per valorizzare il territorio oltre ogni interesse di parte. L'incertezza che sembra leggere sul suo futuro deve essere un monito, a far fronte comune e a non lasciare così che questo progetto, fonte di sviluppo ed occupazione, venga risucchiato nell'alveo degli obiettivi fortemente inseguiti, ma mai perseguiti. Alle nostre amministrazioni e soprattutto alla Regione spetta il compito di far sì che questo non avvenga. In un tempo di rinunce e tagli per tutti i settori, questo rappresenterebbe la ciliegina su una torta fatta per celebrare una triste ricorrenza, quella delle occasioni mancate.